Ragazzi vi devo parlare perché avverrà una piccola novità momentanea sul mio canale Prima di entrare nell'argomento, ed è una cosa importante perché dovete ascoltare Perché anche se durerà poco succederà un piccolo cambiamento Dovuto a un fattore che ora vi andrò a spiegare Per chi non lo fosse, per chi ha scacciato questo video senza essere iscritto al canale Non dimenticatevi di iscrivervi, andando a girovacare su YouTube Studio Ho scoperto che il 75% degli spettatori che mi guardano quotidianamente non è iscritto al canale Quindi iscrivetevi, lasciate like, condividete questo video e il mio canale Iscrivetevi anche al mio canale Whatsapp, link in descrizione, lì pubblico notizie Una base di 15 milioni 15 milioni Eh ormai quello era il prezzo Cioè una volta iniziata, scavallata la metà di agosto Per collaborazioni di ovviamente canali che abbiano più o meno i miei stessi iscritti Però oggi è un video differente perché non andiamo a parlare di calcio Andiamo a parlare del mio canale Perché? Perché dal periodo che va dal 28 agosto Andrà dal 28 agosto al 1 settembre, 1 settembre I miei video non potranno essere registrati sul momento Vi spiego meglio Pubblicherò tutti i video già preparati, già prefatti Che ovviamente saranno di qualità massima Qualità, la stessa qualità che metto in qualsiasi video Editati e tutto quanto Video che però non possono e non potranno parlare Di notizie istantanee Quindi se accadrà un colpo di calcio mercato Non ne potrò parlare Perché? Perché andrò in ritiro con la mia squadra Con la mia nuova squadra che è questa qui Il club olimpico romano Quest'anno facciamo l'Under 16 Elite Che è una categoria abbastanza tosta Abbastanza importante E quindi il ritiro non avrò Anche se volessi A parte che non posso Dove mi metto? Ma proprio non avrò il tempo materiale Per registrare i video Ma neanche shorts Potrei fare qualche post eventualmente Per documentarvi la mia esperienza Ma più di quello non credo di riuscire a fare Poi non lo so Ma sulla carta non credo Ve lo dico perché poi magari Vedete che rispondo meno ai commenti Cosa che probabilmente succederà Risponderò un po' meno ai commenti Perché avrò poco tempo E quel poco tempo lo userò per riposarmi Magari dopo un allenamento Prima di un altro allenamento Perché avremo due allenamenti in un giorno Due allenamenti al giorno Quindi credo di stare poco su YouTube In quell'asso di tempo temporale Usciranno video? Assolutamente sì Questo video uscirà martedì Lo registro lunedì Cioè il giorno dopo di Roma Empoli Ma lo vedrete domani Cioè martedì 27 agosto Appunto il 28, il 29, il 30, il 31 e l'uno Usciranno tutti Il primo Tutti i contenuti Che saranno prefatti Usciranno per farvi capire Le tier list Indovinelli Shorts Indovinelli Shorts che ho fatto in vacanza Quindi che parlano sempre di calcio Che vi faccio vedere un po' Per esempio Spoiler Lo stadio del Mallorca Ve lo annuncio qui Ho fatto un video per lo stadio del Mallorca Devo vedere se farvelo uscire Entro il primo settembre Oppure se lo farò uscire in un'altra fase Del mese Quindi a questo punto del prossimo mese Già a settembre Quel che però dovete sapere È che praticamente non farò contenuti Istantanei sul mio canale Praticamente io parto domani ragazzi Parto domani alle 8 Arrivo lì E ritiro alle 11 Alle 11.30 C'ho il primo allenamento Devo andare a Ovindoli Ovindoli che è Si trova in Abruzzo Anche l'anno scorso ho fatto il ritiro in Abruzzo Ma con una mia altra squadra L'anno scorso sono andato A Castel di Sangro Dove ho anche il Napoli tra l'altro Quest'anno vado a Ovindoli Che è più o meno Sta lì Comunque tutte belle Buone destinazioni E Alle 11.30 C'ho il primo allenamento Dopo mezz'ora che arrivo Più o meno Non so se proprio alle 11.30 Ci alleneremo Perché comunque Arrivi Prendi la camera Siste i sistemi Ti cambi Vai al campo Non so se entro alle 11.30 Ce la facciamo ma Giù di lì Poi Vabbè Ci facciamo la doccia Dopo l'allenamento E pranziamo Credo verso le 13 Allenamento Poi alle 5.30 Alle 5.30 Devo rileggere il programma Alle 5.00 Comunque mi pare Due allenamenti al giorno Sarà abbastanza dura Non dura tanto L'anno scorso Proprio tutta la settimana È durato È stato pure un po' pesante Devo dirvi la verità Quest'anno almeno Dura solo due giorni interi E credo passino Abbastanza locemente Sarà una cosa abbastanza Bella Comunque Non vedo l'ora Anche perché sarà una stagione Molto molto importante E tosta E bella soprattutto Quindi niente Era giusto per dirvi questo Se mi volete fare In bocca al lupo Fateli perché La fortuna fa parte Fa parte del successo Quindi se volete Magari E ragazzi Vi ripeto Iscrivetevi al canale Per chi non lo fosse Lasciate like Condividete questo video Fatemi sapere appunto Non lo so se avete mai fatto Ritiri in vita vostra Dove giocherete quest'anno Se praticate calcio Che anno siete Quindi per esempio Io Quest'anno sono Under 16 Mi pare Allievi Sì Under 16 sono gli allievi E Fatemi sapere un po' Quello che farete In questa stagione calcistica Noi ovviamente Ragazzi Come sempre Ci vediamo A un prossimo video